Musica Senza tetto trovato morto in strada, il cadavere di un uomo di 59 anni di origine romena è stato trovato in via dei pescatori fuori dall'auto nella quale dormiva. Ambientiamoci giovani a confronto al via, il percorso sul clima, incontri, lezioni e dibattiti sulla sostenibilità ambientale e i cambiamenti climatici. Una riflessione a cuore aperto sul futuro e la ricerca della libertà nel nuovo libro di Sergio Talenti dal titolo Un post d'Occidente, la lucida analisi attraverso la poesia di una umanità alla deriva dove speranza e ribellione sono unite indissolubilmente. Il ciclismo lucchese guarda già al 2022, tradizionale festa annuale alla Casa del Boia con premiazioni delle 37 società del territoriale provinciale. Il presidente Castellani progetta l'anno del rilancio. Quando Ucci calò il Tris prosegue il nostro ciocchetto stori, il campione Garfagnino si impose nel 2016, ovvero nella 25esima edizione della corsa prenatalizia. Ben trovati a questa edizione del TG Noi, partiamo dalla cronaca, è stato ritrovato a Viareggio al di fuori della propria auto senza vite, è un sensatetto romeno di 59 anni. Sentiamo il servizio che è di Roy Lepore. Un uomo di 59 anni, Stefan Aurel, romeno, è stato trovato morto giovedì mattina in un parcheggio in via dei pescatori in Darsena a Viareggio. Le cause del decesso sono naturali, come ha confermato il medico del 118 intervenuto sul posto insieme ad un'ambulanza della misericordia di Viareggio, oltre ai carabinieri per i rilievi. L'uomo per un periodo ha vissuto in via Paradini alla Varignano, ma da esso dormiva in auto su una Ford Station Wagon. Intorno alle 8 è stato visto accacciarsi a terra vicino alla vettura da una studentessa che andava a scuola e sono stati allertati i soccorsi, ma purtroppo quando sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'uomo soffriva di cuore, il freddo della notte può aver causato il malessere che purtroppo l'ha portato alla morte. Il corpo è stato trasferito successivamente dalla Croce Verde presso l'obitorio dell'ospedale Versilio. Ed è il momento di vedere assieme l'andamento dei dati relativi alle nuove positività al Covid-19. A livello regionale sono 659 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 137 in meno rispetto alla giornata di ieri, l'età media è di 37 anni. Sale però il tasso di positività 3,6%, ieri era il 2,4%. I pazienti ricoverati nei posti letto Covid nelle ultime 24 ore sono 325, ovvero 4 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 47. Si registrano anche 4 decessi con un'età media di 85,8 anni. Il dato provinciale dei nuovi positivi è di 72, 14 in meno rispetto a ieri, nel dettaglio 33 casi nella Piana di Lucca, 15 in Valle del Serchio e 24 in Versilia. Cambiamo pagina perché è appena ripartito questa mattina con una lezione finalmente nuovamente in presenza, il progetto Ambientiamoci. Riparte con una lezione in presenza presso l'auditorium del Palazzo delle Esposizioni, il progetto Ambientiamoci. L'iniziativa, promossa dal Centro di Cultura di Lucca dell'Università Cattolica, per due anni coinvolgerà gli studenti di tre scuole superiori di Lucca e della Piana in un percorso di sensibilizzazione e formazione su diverse tematiche ambientali, dai cambiamenti climatici alla sostenibilità. Le parole ufficiali e più importanti di tutto questo progetto saranno tutto è connesso, tant'è vero che non si parla più semplicemente di ecologia, ma oggi si parla di un'ecologia integrale che ha come punto fondamentale la persona, quindi la persona che è legata all'ambiente, alla nostra casa comune. Quello che la pandemia ci ha insegnato è che veramente siamo tutti connessi, non possiamo più salvarci da soli. Per i ragazzi del Liceo Artistico Musicale Passaglia, del Liceo Scientifico Majorana Capannori e dell'ISI Pertini sono quindi in programma diversi incontri, lezioni e dibattiti con esperti del settore, ma anche uscite guidate sul territorio e visite all'interno di industrie e aziende della provincia. È un compito anche nostro, della scuola, quello di creare una mentalità che appunto sappia connettere, non solo perché parliamo di tecnologie, ma perché parliamo di temi, di tematiche importanti che devono coinvolgere l'intera cittadinanza. Obiettivo del progetto, educare le nuove generazioni a comportamenti e stili di vita coerenti e responsabili, ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Sergio Talenti presenta il suo ultimo libro, Una riflessione a cuore aperto sul futuro e la ricerca della libertà. Un post d'Occidente, Sergio Talenti, il nostro editorialista, ha pubblicato con Maria Pacini Fazzi un'altra delle sue raccolte, non possiamo dire solo di poesie, ma anche di prose, una raccolta di quello che è il pensiero di Sergio su tanti degli aspetti della nostra vita quotidiana. In questo caso si parla tanto anche di teologia, della tua visione del mondo, della tua visione della religione, tant'è che il libro è dedicato ad Hans Kung. Come mai? Sai, Hans Kung perché? Perché lui era un teologo, era morto cattolico, che era molto contestativo rispetto alle posizioni ufficiali della Chiesa, ebbe anche dei problemi molto duri con poetile e quant'altro. No, è che io scrissi una poesia a Delphi che fu mandata alla sua fondazione, lui vivo, lui è morto recentemente, perché la figura del Cristo in qualche modo era molto parallela alla sua cristologia. So che amò molto questa poesia, voleva farci anche una specie di relazione o di commento ed è morto. Però la fondazione l'ha pubblicato il giorno della morte nel libro di condolianza, quindi perché sta aperto un anno, dove si può leggere in italiano Delphi, e questa per me è una cosa molto significativa. I contenuti di questo libro hanno un filo logico, o si possono intendere come spaziare su 360 gradi della nostra vita? I contenuti sono nel prossimo futuro, cioè il futuro prossimo. Questo libro analizza, come peraltro anche i precedenti, quello che è attualmente l'umanità che viene in qualche modo sottratta all'uomo. Quindi vedo un processo di degrado che si manifesta anche a livello di Eros, più in generale di aspettative personali, individuali. Soprattutto vedo questo degrado anche nel campo dell'ecologia, ma che poi ha a che fare anche con l'ecologia umana. Quindi siamo in una fase abbastanza critica del mondo, credo, e questo libro affronta queste criticità. Presentazione ufficiale, come sempre molto spettacolare, quella dei libri di Sergio Talenti. sabato pomeriggio alle 18 all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Un appuntamento da non perdere per tutti gli intellettuali e non solo. Ed è stata inaugurata ieri, 8 dicembre, la mostra dei presepi in Santa Maria, Corte Orlandini. È stata inaugurata in occasione del giorno dell'Immacolata la mostra di presepi artigianali nella chiesa di Santa Maria, Corte Orlandini. L'esposizione, organizzata dal coro Il Baluardo di Elio Antichi, raccoglie 26 natività rigorosamente trasportabili e realizzate a mano. L'appuntamento con la mostra dei presepi nella chiesa di Santa Maria Nera è giunto ormai alla nona edizione. Alla quarta edizione, invece, il premio ad essa associato e intitolato a Rovaldo Tadeucci, storico presepista lucchese che più volte si è distinto nelle esposizioni di natività, trasmettendo la sua passione e capacità prima al figlio e poi ai nipoti. Già mio padre, che appunto la passione dei presepi ce l'ha avuta, poi me l'ha tramandata anche a me. Diciamo, il presepe è qualcosa che affascina. Ritornare e vedere un presepe in una casa è valorizzare, diciamo, anche un po' il Natale. Dalle strutture più semplici a quelle più fantasiose, scenografiche e complesse, come questa natività ricostruita all'interno di un vecchio televisore o come questi tre presepi realizzati da Pierluigi Chiovelli e ambientati in altrettanti angoli della nostra provincia. Ai visitatori della mostra, il compito di decretare i vincitori dell'edizione. Coloro che vengano a visitare la mostra vengano invitati ad esprimere tre preferenze. Se non c'è tre, non vale il voto. Il voto è nullo, per intendersi. Chi vince prenderà il premio da parte del gruppo vocale lucchese Baluardo, che è l'organizzatore, primo, secondo e terzo premio. L'esposizione dei presepi resterà aperta fino al 9 gennaio, il venerdì e il sabato, dalle 16 alle 19, la domenica e i festivi anche al mattino, dalle 10 alle 12. E con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale. ci fermiamo poi per qualche istante di pausa e torniamo con lo sport a cura di Guido Casotti.